A San Martino di Lupari è stata avviata la procedura espropriativa di alcuni terreni privati destinati ad ospitare tre interventi pubblici programmati per il 2018. Si tratta del secondo stralcio dei percorsi ecologici che verranno allungati di oltre tre chilometri verso sud arrivando fino alla chiesa di Borghetto, del completamento della ciclabile di Lovari che collegherà San Martino di Lupari a Villa del Conte e di una nuova rotatoria all'incrocio tra via Michelangelo, via Dante e via Leonardo. I tre interventi prevedono un investimento complessivo vicino al milione di euro. Grazie a tutti.